Sulla SR 429 in corso per tre mesi dai primi di marzo una serie di lavori di asfaltatura che interessano tutto il vecchio tracciato di competenza della città metropolitana di Firenze. Riguarderanno i tratti che ricadono nei comuni di Certaldo, Castelfiorentino ed Empoli. Un cantiere mobile andrà via via a interessare singoli tratti di strada in orario 8.30-18, tutti i giorni, domenica esclusa. I lavori per un investimento previsto di 950.000 euro prendono avvio da Certaldo per poi proseguire con Empoli. Sono coinvolti tra l'altro i centri abitati di Cambiano e Petrazi nel comune di Castelfiorentino, Fontanella, Sant'Andrea, Molinuovo e Brusciana nel comune di Empoli. Sono prevedibili disagi al traffico, specialmente nelle ore di punta. I cantieri fanno parte del piano di messa in sicurezza dei piani viari e delle strade di competenza della città metropolitana nel territorio dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa, concordato tra le amministrazioni e la città metropolitana di Firenze nell'ottobre 2016 e vanno a integrare e completare gli interventi puntuali già realizzati nel 2016.